Ciao a tutti i lettori di Panorama, sono il DJ Aniceto, sono molto felice di essere in questa tappa conclusiva di questo tour che va alla ricerca delle eccellenze in tutta Italia. Sono stato molto contento di essere stato scelto come testimone al musicale di questo tour nella mia città che stasera è fenomenale perché alla mia destra ci sono le luci di artista, alla mia sinistra ci sono... Ah no, ho sbagliato, la destra, la sinistra, comunque alla mia sinistra ci sta questo magico pallone di Panorama d'Italia dove ti offrono i splendidi cocktail. Ecco, io sono molto felice di essere qui, io sono il DJ Aniceto, come ho già detto, mi occupo di problematiche sociali, anche qui oltre alla mia musica ho proposto dei miei slogan e quindi sono stato molto felice di aver portato questa mia testimonianza a Salerno. Ultimamente sono stato ospite alla comunità di San Padrignano, ho parlato con tantissimi giovani dell'Emilia Romagna tutto questo mi ha onorato perché ho visitato una comunità che praticamente fa tanto per i giovani, dà una seconda possibilità. Ora sto qui a Salerno con il magico Panorama che tanti anni fa ha contribuito a cambiarmi la vita perché praticamente ha parlato di un mio remix storico di faccetta nera e ho fatto anche bandiera rossa e da lì mi ha cambiato un po' la vita, ecco perché sono qui. Mi manca anche la voce dall'emozione, vi lascio con un mio slogan che lancio anche con le telecamere di Chiambretti Night. Abbazza la droga, viva il cuore, viva la musica tutte le ore, Shaker Body!